Ciao ragazze, sono tornata con un nuovo video questo sarà un video review di una collaborazione che ho ottenuto grazie al Cosmo che tra l'altro quest'anno non lo fanno a marzo cioè io sono rimasta così lo fanno ad aprile, i primi di aprile dal 4 al 7 per informazione vostra ho visto sul sito e l'hanno spostato dal 4 al 7 aprile non mi chiedete il perché, perché non lo so comunque grazie al Cosmo ho ottenuto una collaborazione con un brand molto molto bello a mio avviso avevo già acquistato da loro due anni fa e mi ci sono trovata bene e vi sto parlando della Splash Cosmetics che è un brand americano il sito è quello che vedete sovraimpressione ovvero www.splashcosmetics.com ovviamente è un sito americano quindi non vi nascondo che il pacco può essere soggetto a dogana se riesco a trovarlo vi lascio giù nell'info box anche un sito tedesco che vende i prodotti della Splash però ho notato che rincara un pochettino i prezzi rispetto al sito americano però purtroppo è così su tutti i brand americani qualsiasi brand come NYX Lime Crime su siti europei costano tipo una barca di soldi cioè rincarano tanto devo dire la verità rispetto al sito americano comunque vando alle chance vi faccio vedere i prodotti la ragazza mi ha dato la possibilità di scegliere quattro prodotti e io ho scelto un primer questo qui che è Splash Proof Sealer è un siero praticamente per ombretto e glitter praticamente è fatto dal packaging sembra bianco però se voi insomma lo andate ad applicare è trasparente sulla parpebra è un pochettino appiccicoso però vi assicuro che è davvero molto molto valido infatti la ragazza mi ha tenuto ci ha tenuto molto a consigliarmi i loro prodotti top e ho scelto insomma questo siero che è ombre a pop faccio prima a farvelo vedere è insomma questo questo qui ombre a pop non saprei cos'è comunque questo è il siero è stato il prodotto nuovo novità di quest'anno della Splash quindi pure nei siti loro vari lo trovate poi sempre per quanto riguarda i loro prodotti top la ragazza mi ha tenuto a consigliare tantissimo i loro eyeliner liquidi e devo dire che ha ragione io ho scelto questo qui il liquidi liner nella colorazione Trasor liquidi questa è la colorazione io sinceramente ve la faccio vedere perché a livello proprio di pronuncia sto proprio uccisa è meglio che ve la faccio vedere che altro questo è l'eyeliner dalla webcam non si vede però è un nero pieno di micro glitter colorati ve l'ho già mostrato nei video dei promossi e bocciati nei promossi e vi assicuro che quest'estate l'ho utilizzato proprio tanto mi ci trovo bene nonostante il pennellino che è morbido e molto molto sottile vi faccio vedere questo è il colore come potete vedere è super nero molto molto liquido si stende bene non si non fa non si incrosta come la maggior parte degli eyeliner liquidi è molto molto bello e mi ci trovo divinamente infatti l'anno prossimo comprerò tutti i colori di questi eyeliner qui perché sono fantastici davvero poi sempre della splash ho preso un ombretto e dei glitter questi glitter qui mi hanno colpito molto perché li teneva la ragazza su tutti gli occhi ed davano una luce al viso fantastica davvero vi faccio vedere applicati col primer sia l'ombretto che il glitter e inizio subito a mettere insomma il primer tra l'altro come una babbea ho sporcato il pennellino del primer però alla fine risulta sempre trasparente quindi almeno questo allora inizio con l'ombretto che fa parte della linea Diamond Lux Intense e Shadow spero di aver pronunciato bene almeno una parola ed è il mistifying 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 comunque è questo qui e ve lo faccio vedere sbocciato con il primer sotto mi ha colpito molto perché è un prugna molto scuro pieno di micro glitter multicolor fantastico davvero fantastico se riesco sto facendo lo sbozzo eccolo qua ovviamente come sempre i glitter multicolor non non si notano però come potete vedere un minimo i riflessi questi riflessi qui che vedete quando muovo la mano sono tutti multicolor tutti glitter multicolor colorati e questo primer è qualcosa di fantastico adesso vi faccio vedere che non va via nemmeno a pagarlo come potete vedere l'ombretto è super pigmentato posso continuare comunque a fare sguozzo no devo dire mi ci sono trovata bene infatti l'ho utilizzato l'ho utilizzato abbastanza e adesso vi faccio vedere i glitter questi qua sono vi dico subito glitter splash pacific sand eccolo qua e vi prendo il packaging è molto molto carino devo dire e lo stesso packaging ce l'hanno i pigmenti che mi manzo le mani di non averli acquistati perché avevano dei colori molto molto particolari ne ho acquistato uno Anna ed era qualcosa di fantastico io come una babbea non l'ho comprato e ho comprato quella fetecchia di eyeliner che adesso vi farò vedere comunque sto cercando di prendere con il dito i glitter e di metterli sopra il primer questi sono i glitter come potete vedere questo primer è impressionante cioè li attacca proprio vedete io posso fare anche così non si toglie sono ancora lì è qualcosa di impressionante questo primer l'unica cosa per esempio che ho notato è che appiccico un pochettino la palpebra però è normale una volta che voi ci andate ad applicare o i glitter o qualsiasi altro ombretto non è detto che voi dovete utilizzare con questo primer per forza gli ombretti della splash potete utilizzare qualsiasi tipo di ombretto la sensazione appiccicosa che avete sulla palpebra non ce l'avete più e vi assicuro che non va via è qualcosa di fantastico infatti la ragazza un altro poco si scartava tra la mano per farmi vedere l'effetto che aveva questo primer è un loro vanto praticamente mi ha detto in inglese molto lentamente perché aveva capito che io ero un'inchiappata in inglese e quindi ha cercato di farmi capire che il loro prodotto topo e sono contenta insomma di aver fatto il prodotto fetecchia che ho acquistato a 5 euro mannaccia a me è questo eyeliner qui della splash ed è il Remar Remarkable precision pen eyeliner comunque è qualcosa di pessimo cioè dal insomma dai tester che stavano lì in fiera aspita che eyeliner favoloso ottimo ottimo scrive benissimo scrive benissimo tutta contenta e cosa vado a casa a provarlo e non scrive una beata non mi pronuncio ora sto pigiando però non fa una linea voglio dire precise cioè non fa una linea con il colore pieno inizia bene e poi piano piano si sbiadisce vedete e devo stare a marcare tipo tre ore e a volte cioè sulla palpebra poi non siete precise a parte che il pennino si è tutto distrutto vedete qualcosa di proprio per me possono eliminarlo proprio dai loro prodotti perché è pessimo è pessimo è anche un peccato perché se voi producete degli eyeliner liquidi così buoni un eyeliner in penna non me lo potete fare così merdoso cioè non esiste proprio è proprio pessimo adesso non scrive proprio cioè rendiamoci conto scrive quando vuole dattilo cestino proprio tranquillo l'ho conservato solo per fare questa review ci ho messo un bel po' a farla però come ben sapete io voglio provare bene i prodotti e poi vi faccio le video le video le video recensione e come ultimo prodotto questo qui non ci azzecca niente con questi prodotti che vi ho mostrato perché fanno parte della fiera di quest'anno questo qui invece fa parte di un acquisto che io ho fatto il primo anno di Cosmoprof ovvero due anni fa ed è sempre un pennello della Splash Cosmetics ho voluto inserirlo perché ve lo straconsiglio allora sono due anni che ce l'ho e vi posso dire che non mi ha perso un pelo questo è il pennello per l'eyeliner che utilizzo tutti i giorni ininterrottamente e non mi ha perso un pelo sempre morbido ha fatto una riuscita davvero fantastica lo pagai 5 euro ma sinceramente ce li vale tutti obiettivamente per un pennello 5 euro per i prezzi che troviamo in fiera è tanto ma vi assicuro sono stati soldi in ben spesi perché non mi ha creato alcun problema questo qui da una parte abbiamo il pennellino d'eyeliner e dall'altra quello lì per ombretto e mi hanno fatto vi dico un'ottima riuscita non sono in setole sintetiche sono in setole naturali e vi dico favoloso se quest'anno riuscite a trovarlo perché io ne volevo comprare un altro ma sono arrivata troppo tardi e le aveva già venduti perché è davvero ottimo volevo comprarlo per scorta perché mi sono trovata davvero molto bene e niente ragazze questo è quanto vi ho insomma recensito un pochettino i prodotti della Splash Cosmetics cosa mi è piaciuto e cosa non mi è piaciuto vi ripeto allora un prodotto che loro per esempio non consigliano a nessuno ma nemmeno persone cioè le persone che stavano lì a visitare lo stand che non erano blogger e che insomma non avevano instaurato questa cosa di collaborazioni eccetera eccetera pure le persone normali consigliavano di non acquistare i blush perché io mi ero tutta buttata sui loro blush e la ragazza ha detto se vuoi provare qualcosa nostro ti consigliamo i nostri prodotti punta e mi ha detto scegli questi prodotti tra questi prodotti qui perché ti troverai bene ti faccio vedere che sono buoni quello insomma che mi ha sconsigliato tantissimo sono i loro blush che fanno parte della linea Ion mi pare comunque sì mi pare Ion una roba del genere e me lo ha sconsigliato tantissimo la tizia questo pennellino questo qua l'ho preso di mia iniziativa e devo dire che è qualcosa di pessimo quindi vi ripeto per quanto riguarda ombretti pigmenti glitter eyeliner liquidi e questo primer che devo è fantastico cioè non ha perso intensità l'ombretto come potete vedere è qualcosa di fantastico io ve lo straconsiglio ma in particolare tra tutti la linea di ombretti che fa la linea diamond è stupenda perché ha all'interno tutti i micro glitter se riesco vi cerco questo sito tedesco ve lo consiglio perché potete acquistare la splash ma non ve lo consiglio a livello economico perché rincara moltissimo i prezzi e non ha tutti i prodotti e tutte le colorazioni e niente ragazze io vi mando un forte bacio con la mia mano tutta inguacchiata e ci vediamo prestissimo in un prossimo video ciao bellezza grazie a tutti ibori Grazie.